Siamo ancora nel giorno di Natale, ma la liturgia ci proietta 40 giorni dopo la nascita del Signore. Vedete quante volte è reiterata in questo Vangelo, secondo la legge del Signore, per adempiere la legge del Signore. Dio, che è l'autore della legge, non ha fatto nulla fuori dalla legge. Alle volte Gesù è presentato come uno che viene a contraddire l'Antico Testamento, che è una legge troppo dura, non è vero. Gesù, il Messia, il Figlio di Dio, è venuto a dare compimento alla legge. La sua carne è il luogo dove la legge si è compiuta, sapendo che la legge è la felicità. La legge non è, come dice, come insinua sempre il demonio, un limite, ma è il compimento della felicità perché, per così dire, tiene l'uomo nella sua verità, nella sua realtà, che è quella di creatura, che è quella di figlio, che è quella non di padre, non di autore, non di legislatore. Il bene e il male non lo stabiliamo noi, non lo stabilisce l'uomo. Il bene e il male lo stabilisce Dio. Il demonio si è insinuato, si è insinuato nella nostra vita per cambiare il bene e il male, il male e il bene e farci illudere di poter essere come Dio stabilendo noi che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. E che succede? Che poi questo ci scoppia tra le mani perché non siamo Dio e quindi non possiamo governare neanche un dente della nostra dentatura, della nostra bocca. Figurati un po' se puoi governare la famiglia o puoi governare nulla. Dio si è fatto carne per dare alla carne la possibilità di compiere la legge, cioè per dare all'uomo la possibilità di essere felice, felice. Oggi appare Simeone, una figura bellissima perché Simeone, Simeone, in ebraico, ha la stessa radice di Shema, l'uomo dell'ascolto. Shema, Israele, ascolta Israele, questo è il cuore della fede di Israele, il cuore della fede di Gesù e di Giuseppe e Maria, i suoi genitori, che per compiere la legge, per adempiere i precetti, hanno portato il loro figlio ad essere presentato come una primizia offerta a Dio. Bene, Simeone oggi parla alla nostra vita. Di fronte al Natale, di fronte all'incarnazione, di fronte all'opera di Dio, cosa possiamo fare? Possiamo ascoltare, ascoltare. Shema, ascolta. Israele è il popolo dell'ascolto. Tu e io abbiamo una possibilità che è data alla nostra libertà, che è ascoltare, che è lasciare che la parola prenda possesso di noi, ascoltare la predicazione. Per questo la missione principua, la più importante della Chiesa, è annunciare il Vangelo, annunciare la verità, annunciare Gesù Cristo. Perché chi non ascolta non può vedere. Simeone ascolta, per questo vede e riconosce in quel bambino, in quella famiglia, uguale a altre migliaia di famiglie, il Messia. Se non ascolti, non puoi riconoscere Dio nella tua vita. Cos'è che ti apre gli occhi? L'ascolto. E quanto è difficile ascoltare. L'uomo superbo non può ascoltare. Perché per ascoltare devi... È molto semplice. Per ascoltare io devo supporre, almeno supporre, che chi mi parla ha qualcosa da dirmi. Che ha qualcosa da dirmi di importante, di decisivo per la mia vita. Non ascoltiamo in televisione, no? Quando ci sono i dibattiti, ma non solo politici, di tutti i tipi. Ma le nostre discussioni al bar, marito, moglie. È impossibile ascoltare. Non ascolti. Tu già hai tutte le risposte possibili e immaginabili di quello che tu immagini che l'altro dica, eccetera, eccetera. Di figli non ne parliamo. Ma questa si chiama superbia. Per questo c'è solo una possibilità. L'ascolto. L'ascolto. L'ascolto è solo di una persona umile. Allora lo Spirito Santo può lavorare lì. Allora tu puoi ascoltare che lo Spirito Santo dice, vai, guarda che oggi nel Tempio entra il Messia. Viene a salvare la tua vita. Viene a salvare oggi la tua vita. Ma questo non soltanto nel Tempio di Gerusalemme. Oggi lo Spirito Santo dirà al tuo cuore dove è nascosto il Messia. Forse in quello che tu non puoi immaginare. Vedete questi, Giuseppe e Maria, offrono due colombe. Cioè offrono il minimo, minimo, minimo. Cioè erano poverissimi. Figurati tu, Israele aspettava il Messia, aspettava, cioè non aspettavano l'umiltà assoluta di Dio che si fa carne nella famiglia più povera, nel posto più povero. Ma questa è una parola per te, per me. Cosa c'è oggi di povero, di disprezzato, di scandaloso nella tua vita? Allora guarda che lì c'è Gesù Cristo. In quello che tu e io stiamo rifiutando. In quello che tu e io vorremmo cambiare. Forse nel carattere del marito, della moglie. Forse in quella crisi di tuo figlio, in quella crisi terribile di tua figlia. Forse in quella malattia, forse nel fatto che non ti vengono a trovare, che sei anziano. Nella sofferenza, l'artrosi, nell'incapacità, nella tua debolezza, nella debolezza di chi vedi accanto a te. Lì si nasconde Cristo. Perché dice che alla Vergine Maria una spada trafiggerà la tua anima. Cioè quello che ha trafitto Cristo sulla croce, trafigge la madre che ha dato la carne a Cristo perché Cristo potesse prendere quella lancia. Perché siano svelati i misteri di molti cuori, perché appaia la contraddizione satanica che governa il mondo. Appaia la contraddizione del bene trasformato in male e il male trasformato in bene. Allora è necessario che la tua anima, la mia anima, l'anima della Chiesa, l'anima di Maria, sia trafitta. E può essere trafitta soltanto se tu hai visto, se tu riesci a riconoscere. Cioè sei occhi aperti per vedere in quel uomo crocifisso Dio, il Messia. Non a caso la Vergine Maria ha accolto la spada perché era unita, corredentrice, unita al suo figlio nella missione per la quale lei stessa lo ha preparato. Ora tutto si tiene. Ora lascia che il tuo servo vada in pace. Cioè oggi io posso dire ho visto Cristo, ho visto la pienezza, ho visto il compimento della Regione nella mia vita, ho visto il mio porto, ho visto la mia pace, ho visto il mio destino, ho visto il mio compimento. Sono in pace. Lascia che il tuo servo vada in pace. Ma andare in pace significa andare crocifisso, significa andare con la lancia nel cuore, significa compiere la missione per questa generazione. Una madre che soffre con Cristo, la crisi del figlio, è un segno di contraddizione in questo mondo. Perché o non fa la micona, che si fa le gambe col figlio, o perché vede dentro il macello, dentro la sofferenza, quello che il mondo non può vedere. Gesù Cristo che dà la vita, Gesù Cristo che si offre, nella certezza che quella la porta alla risurrezione. Non è importante cambiare le cose, non è cambiare le strutture, non è cambiare il carattere, non è cambiare le sorti di una situazione. No, l'importante è la vita eterna, l'importante è il cielo che si cela dietro alla croce. Allora che il Signore ci dia questo oggi, questo spirito di ascolto della predicazione. Diceva Israele, dice Israele, che non si può stare tre giorni senza ascoltare la parola. Se stai tre giorni senza ascoltare la parola, muori. Allora che il Signore ci dia la grazia di ascoltare ogni giorno. per vedere compiuta in noi la legge, cioè la nostra felicità e la salvezza per questa generazione, la luce nelle tenebre di questo mondo.